Tutto da rifare dopo tre anni e dopo un finanziamento da 6 milioni di euro strappato alla linea dei Fassi in regione Abruzzo. La provincia di Teramo fa dietrofronto sul progetto del ponte di Castelnuovo-Vomano, niente abbattimento e rifacimento dell'attuale ponte, su cui si transita a senso unico alternato per via dei noti problemi di stabilità legati al rischio idraulico che insiste sull'asta del Vomano. Con la delibera del 21 maggio scorso a stravolgere tutto quello che è stato fatto finora è il presidente della provincia, Renzo Di Sabatino, che ritiene opportuno ora aderire alla richiesta delle amministrazioni mediante l'elaborazione di un nuovo progetto per realizzare l'opera in una posizione dislocata più a valle rispetto all'attuale. Il riferimento non è soltanto alla volontà messa nero su bianco delle amministrazioni comunali di Castelnuovo e di Cellino, ma anche alla petizione promossa dal comitato Un ponte per il futuro, 3.000 firme, che sono state depositate al protocollo della provincia lo scorso 13 maggio. Tradotto, tutto il lavoro fatto dagli uffici della provincia in questi anni dunque sul progetto finanziato dalla regione può essere cestinato. Con la delibera del 21 maggio, Di Sabatino incarica il dirigente di istruire il gruppo di progettazione interno all'ente per la redazione del nuovo progetto, che prevede la realizzazione di un ponte ex nuovo, ma più a valle, nella zona adiacente all'area industriale di Castelnuovo, in modo che tramite una variante alla statale 150 si possa rafforzare l'interdipendenza dei due poli produttivi e così agendo come volano per un nuovo ulteriore sviluppo, senza contare che la nuova realizzazione del ponte, i cui lavori si possono protrarre per un periodo compreso tra uno o due anni, avrebbe richiesto la chiusura al traffico con i conseguenti inevitabili disagi. Il Presidente, con l'atto firmato lo scorso 21 maggio, sollecita i tecnici della provincia a procedere con urgenza e dichiara l'atto immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. Tutto da buttare all'ora del fatto finora, Tutto da rifare, ma una cosa è certa. Bisogna correre, perché o i lavori vengono appaltati entro il 31 dicembre prossimo, oppure gli oltre 6 milioni di euro stanziati dalla Regione Abruzzo per il progetto iniziale potrebbero essere persi. E a proposito di voto, qualora dovesse mai transitare in Consiglio Provinciale per assurdo quest'atto, e a proposito di voto, la decisione assunta dal Presidente di Sabatino ha già sollevato forti perplessità anche da parte dei consiglieri di opposizione, perplessità sui tempi richiesti dalla nuova progettazione dei tempi della gara, sull'adeguato finanziamento, perché potrebbero non bastare 6 milioni di euro per un nuovo ponte, sui costi di realizzazione dei collegamenti tra il ponte e le aree industriali, e su quelli soprattutto di gestione dell'attuale ponte, destinato a questo punto a rimanere così com'è.